Professor Zagrebelsky, secondo Demopolis, a 20 giorni ormai dal voto sul referendum, uno su due degli italiani non sa su cosa si vota. Secondo lei come è possibile? È possibile perché la questione è estremamente complessa dal punto di vista costituzionale, dal punto di vista tecnico e riconosciamo la realtà delle cose, ci sarà una gran parte di nostri concittadini che non andrà a votare per la ragione che dice lei, non è entrata nel merito della questione e poi siamo anche in una situazione in cui i problemi predominanti nella vita dei nostri concittadini sono altri, non è questo, questa riformetta, questa è in forma governativa e questo fa sì che il voto sia necessariamente un voto pro contro il governo. Poi c'è una quota di nostri concittadini invece che sia informata e io spero che sia questa la quota decisiva tra sì e no, quelli che hanno maturato una loro opinione e facciano pendere la bilancia da una parte o dall'altra. Senta, sulla vicenda della lettera che il Presidente del Consiglio Matteo Renzi invierà gli italiani all'estero, questo va in qualche modo a inficiare la campagna elettorale oppure no? Ma io non lo so, io ho letto questo testo, il Presidente del Consiglio diceva io l'ho scritta in veste di segretario del partito, a parte la questione degli elenchi a disposizione di tutti o non di tutti, lasciando a parte questa questione. Il governo ha questi elenchi e li vuole utilizzare per la, diciamo pure propaganda elettorale perché se uno legge quel testo è ipocrita dire che serve semplicemente a invitare a votare, no? È un chiaro invito. A votare sì. Ma finisce proprio, basta un sì. C'è il rischio secondo lei che questi 4 milioni di elettori all'estero diventino l'ago della bilancia? Può darsi benissimo, nessuno lo può escludere. Quello che si capisce adesso, lo dicono un po' tutti, è che sarà una vicenda che si risolverà un po' sul filo di lana. Come vedono gli italiani il risultato del referendum? Cosa cambierà? Per il 54,4% cambierà poco. La riforma per i sostenitori del sì è una riforma epocale attesa da 30 anni che porterà il Paese nel futuro. I sostenitori del no parlano di un rischio autoritario. Com'è possibile che poi la percezione sia quella che cambierà poco o niente? Per quello che diceva all'inizio che i problemi alla fine sono altri per gli italiani? La percezione è determinata anche dalla scarsa conoscenza dei contenuti. Naturalmente se uno legge la riforma costituzionale, la riforma in quanto tale si accorge che effettivamente sono tutti aspetti molto tecnici, il superamento del bicameralismo paritario, sono cose che di per sé non cambiano nulla. Ma con la legge elettorale sì, e qui non si sa che fine farà la legge elettorale, perché c'è questo documentino, tutti si chiarano disposti a cambiare. Poi per cambiare bisogna avere una maggioranza in Parlamento, non è una cosa semplice. Detto questo, l'insieme fa correre il rischio, lei dice il rischio autoritario, io dico il rischio oligarchico, che è una cosa un po' diversa. E c'è la concentrazione del potere all'alto, cioè nelle mani del governo, del Presidente del Consiglio. Questo rischio oligarchico che lei vede è ovviamente collegato alla legge elettorale. Questa critica, ad esempio dal Ministro Boschi, viene liquidata con ma tanto non si vota sulla legge elettorale nel referendum. Sì, ma appunto tutti sanno, per poco che abbiano studiato un po' queste cose, che Costituzione e legge elettorale sono un tutt'uno.